Sono appena arrivato qui a Port Camargo in Francia, sono in questa splendida marina, pensate che ci sono 8.000 posti barca. Sono venuto qui al press event di Yamaha per provare tutte le novità, infatti qua alle mie spalle ci sono un'infinità di imbarcazioni con tutte le novità Yamaha perché sono usciti i 200, i 400, i 450 e qua ho la possibilità di provare gommoni, imbarcazioni, imbarche montate qui con un motore singolo, con il bimotore, con il trimotore. Imbarcazioni da pesca, natanti da diporto e quindi ci sarà l'imbarazzo della scelta, andiamo a provare tutte le novità Yamaha. Grazie 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 Grazie.